In banca, siamo in banca, c'è la coda, c'è gente che è in coda davanti allo sportello, arriva uno con una maschera, arriva una maschera, va lì, tira fuori la pistola, passa la coda, tira fuori la pistola e fa dammi tutte le palanche, mettono in tu sacchetto, mettono nel sacchetto le palanche, presto presto, e lì il direttore, il cassiere lo sapeva, facciamo un po' di scena, il cassiere mette tutti i soldi, mentre questo raccoglie i soldi, tac, si rompe l'elastico e cade la maschera, la prende e la rimette e fa, ti mai visto? mai visto? e lì ti ho visto, è caduta la maschera, mai visto? e ti ho visto, si spara la maschera, si gira dal primo che era in coda, ci fa, mai visto te? io cosa fai che ti abbia visto, lì sono senza occhiali, è rigirato di schiena, si vede appena appena, ma non ti ho capito, mia moglie ti ha visto, mia moglie ti ha visto!